ciao ragazzi e bentornati su hard rock crypto qui è muro per voi nel video di oggi andremo a vedere in che modo io investirei 1000 euro nel mondo cripto e lo farò facendovi vedere tre opzioni differenti tre diversi wallet uno a basso rischio uno medio per poi finire con uno ad alto rischio ovviamente come sempre tutto quello che ho detto e che dirò in questo video non rappresenta assolutamente un consiglio finanziario ma semplicemente le mie opinioni in materia quindi ragazzi fate sempre le vostre ricerche e investite solamente cifre che potete permettervi di perdere un'ultima cosa prima di iniziare nei prossimi minuti farò i nomi di diverse altcoins ma non andrò ad approfondire i progetti nello specifico perché non è questo lo scopo del video qualora vi interessi un token in particolare potete andare a vedere il nostro video dedicato a quel progetto quindi direi di non perdere altro tempo e partiamo subito con il primo wallet cioè quello meno rischioso a mio parere ecco qua il grafico a torta del wallet numero 1 questo a mio parere è quello meno rischioso l'ho diviso in tre parti la parte principale quella più consistente è dedicata a bitcoin ovviamente il 60 per cento poi un 30 per cento per ethereum e infine un 10 per cento dedicato alle altcoins vedete che tra parentesi ho messo un 2 trattino 4 che significa che lo dedicherei a 2 barra 4 progetti diversi non di più perché sennò sarebbe troppo poco per ogni singola altcoin se optassimo per 4 sarebbero 25 euro per ogni progetto scelto in questo wallet la sicurezza è data naturalmente dalla presenza in quantità maggiore di bitcoin con un 60 per cento quindi secondo me basta solo quello a garantire tutto il portafoglio cioè qualora per assurdo ethereum dovesse performare veramente male cosa che io non penso però mettiamo il caso che succeda e che le altcoin che abbiamo scelto vadano malissimo vado addirittura a zero allora ci penserebbe bitcoin a ristabilire l'equilibrio in questo portafoglio perché secondo me se ci fosse un altro bull market ritengo che molto probabilmente bitcoin farà almeno un 2x rispetto al suo prezzo attuale quindi ad esempio con un wallet del genere se bitcoin dovesse ritornare sui 35 40 mila dollari già saremmo inattivo anche se ethereum e le altcoin andassero a zero cosa che secondo me è molto improbabile soprattutto per la presenza di ethereum le altcoin magari le scegliamo male e prendiamo delle altcoin troppo rischiose e allora queste potrebbero andare a zero ma ethereum che va a zero mi sembra una cosa molto difficile soprattutto dopo il passaggio alla proof of stake con ethereum 2.0 che sicuramente sta strezzando l'occhio ai grandi investitori istituzionali e infine la parte più ad alto rischio di questo portafoglio è quella dedicata alle altcoin cioè quel 10 per cento che suddividerei tra due barra quattro coins differenti qua sulla scelta dei nomi potete scegliere voi i progetti che più preferite potete anche rischiare un po di più visto che è dedicato solamente il 10 per cento quindi potete andare a puntare magari su qualche altcoin esotica che vi piace in modo particolare e che avete studiato per bene e anche qualora sbagliate tutte le vostre scelte e le due o quattro al coin che scegliete vanno a zero comunque teoricamente bitcoin e ethereum dovrebbero di gran lunga coprire questo 10 per cento le percentuali che ho scelto ovviamente potrebbero anche variare nel vostro caso potete anche aumentare la quota di bitcoin al 70 75 per cento e diminuire quella di ethereum e delle altcoin questo però sta a voi e alla vostra propensione al rischio quindi andrei avanti andiamo a vedere il portafoglio numero 2 quello a medio rischio in questo wallet come potete vedere le percentuali cambiano abbastanza infatti la parte più grande è dedicata alle altcoin il 50 per cento mentre per bitcoin ed ethereum un altro 50 per cento dove ho messo una parte un po più grande di bitcoin rispetto a quella di it 30 per cento e 20 rispettivamente per le altcoin quindi qua è dedicata la parte più grande il 50 per cento e vedete che tra parentesi ho messo da 5 a 10 anche qua non ho fatto nomi perché dovete essere voi a scegliere le vostre altcoin preferite se posso darvi un consiglio io le sceglierei per settori visto che non sappiamo quale trend o quali trend andranno per la maggiore in un potenziale prossimo ciclo rialzista e quindi magari ad esempio potreste scegliere due progetti che vi piacciono nella defy due nei play to earn barra metaversi magari un paio di piattaforme layer 2 comunque penso che abbiate capito vi consiglierei personalmente di scegliere nei settori che più vi convincono o comunque i progetti che ritenete più validi e che secondo voi in futuro attrarranno più investitori perché è in questo momento che si fanno i veri affari in pieno bear market quando c'è pochissimo interesse anche per i progetti più validi e con maggiore potenziale quindi per chiudere con questo portafoglio numero 2 a percentuali è evidente che sia più rischioso rispetto a quello precedente però a mio parere con un 30 per cento di bitcoin e un 20 per cento di ethereum si dovrebbero teoricamente coprire eventuali scelte disastrose tra le altcoin cosa voglio dire che in caso scegliessimo 5 barra 10 altcoin sbagliatissime che tutte quante vanno malissimo con il restante 50 per cento del nostro wallet e il ritorno a un ciclo rialzista i nostri bitcoin ed ethereum potrebbero tranquillamente coprire le eventuali perdite con le nostre altcoin quindi sì questo portafoglio ha un maggiore potenziale nel senso che le altcoin hanno la possibilità di performare meglio di bitcoin ed ethereum data la loro capitalizzazione di mercato molto più bassa ma c'è anche il lato opposto della medaglia cioè che potrebbero tranquillamente fare anche molto peggio dipende ovviamente tutto dalle nostre scelte questo wallet è dedicato sicuramente agli amanti delle altcoin che però vogliono investire metà del loro wallet in asset che io considero sicuri come bitcoin ed ethereum e quindi adesso passerei invece al portafoglio numero 3 quello ad alto rischio ed eccolo qua in questo caso invece ho voluto fare i nomi ma di certo non per convincervi che questi siano i progetti giusti su cui investire ma sono semplicemente dei progetti che a me interessano e che per un motivo o per un altro seguo da diverso tempo questo wallet è diviso in parti uguali 10 asset tutti con il 10 per cento anche in questo wallet ci ho messo bitcoin ed ethereum ma in percentuali nettamente inferiori qualora vogliate rendere questo portafoglio ancora più speculativo potete sostituirli con altre dual coin di vostro gradimento ma facendolo ovviamente diventa al tempo stesso più rischioso io personalmente un po di bitcoin ed ethereum li terrei sempre in qualunque wallet però sta a voi fare le vostre scelte poi come ho scelto le altre monete come vi stavo dicendo prima le ho scelte per i settori che io preferisco o comunque i progetti che penso che potrebbero fare meglio naturalmente questi nomi possono cambiare nel tempo in che senso non bisogna troppo fossilizzarsi su un progetto ad esempio qua ho messo questi progetti come chilis cardano sand gala uniswap ma qualora uno di questi progetti dovesse iniziare ad andare malissimo per delle notizie che verranno fuori in futuro si può tranquillamente cambiare idea e sostituirlo con un altro token la cosa più importante non vi dovete affezionare ai progetti sono investimenti fatti per cercare di aumentare il nostro capitale personale quindi a un certo punto quando saremo in profitto vanno venduti non dovete conservarli e collezionarli una cosa che voglio dirvi su questo portafoglio non dovete concentrarvi troppo sui nomi perché come vi dicevo prima ognuno deve scegliere i suoi settori preferiti con i suoi progetti preferiti poi altra cosa le altcoin da un ciclo all'altro non è che si ripetano ogni volta e superino i loro massimi lo abbiamo visto anche dal 2017 al 2021 tanti progetti che sono andati benissimo nella bull run del 2017 poi non sono riusciti a ripetere neanche il 50 per cento delle performance precedenti quindi non è che questi token che ho elencato vi diano la garanzia che supereranno i loro massimi assolutamente no non direi mai una cosa del genere però tra tutti i progetti in circolazione e dei settori che io prediligo mi sembravano quelli più validi come vi dicevo prima potete rendere questo portafoglio ancora più pericoloso e speculativo sostituendo bitcoin e ethereum con altri due token di vostro piacimento oppure potete anche aumentare quindi fare invece di 10 altcoin al 10 per cento 20 altcoin al 5 per cento che in un investimento da 1000 euro vorrebbe dire 50 euro per cripto oppure 100 euro se ci mettete il 10 per cento e anche la cifra dell'investimento di 1000 euro è una cifra casuale che per tanti è comunque una cifra abbordabile ovviamente se non avete 1000 euro da investire potete fare la stessa cosa con 500 euro o per chi invece è un po più facoltoso può anche aumentare l'importante e ve lo ripeto è che sia una cifra che non vi cambi la vita nel senso se dovesse andare tutto a zero per assurdo voi perdete una cifra che non vi fa nessuna differenza non fa piacere perdere soldi ma l'importante che non siano soldi che vi servano per vivere la vita di tutti i giorni detto questo ragazzi per oggi è tutto fatemi sapere nei commenti quale tipo di portafoglio è più congeniale a voi o se avete un'idea differente esponete ma la tranquillamente come sempre se vi è piaciuto questo video disintegrate il bottone del like qua sotto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati veniteci a trovare sui nostri social e alla prossima sempre qua su Hard Rock Crypto Go!